Cari telespettatori, eccoci con un'altra intervista, con un altro nostro ospite e un altro tema molto importante e interessante. Le mafie, la mafia, le mafie nel nostro nord-est, nel Veneto, conclamate, non si parla di infiltrazione, si parla di radicamento, si parla di un processo che ha avuto degli esiti importanti purtroppo. Collegato con noi, Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico. Ben arrivato. Buongiorno, buongiorno a voi i vostri telespettatori. Allora, intanto per capire, avviso pubblico che cos'è? So che è un'associazione abbastanza recente, ma di che cosa si occupa in particolar modo? Allora, avviso pubblico è un'associazione in realtà che è nata nel 1996, è nata per mettere in rete tutti i comuni, le province, le regioni e da pochi anni anche le città metropolitane e le unioni dei comuni, i cui amministratori locali, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, decidono di mettere in atto dei percorsi, dei progetti, delle attività, per prevenire e contrastare le mafie e la corruzione sia dentro la pubblica amministrazione che sui territori dove queste persone governano. Siamo partiti 24 anni fa con 14 enti associati, ora siamo quasi a 500, di cui più di 80 in Veneto e tra questi c'è anche la regione del Veneto che aderisce ad avviso pubblico. Come nasce? Da che progetto? Da che causa? Cosa è stata l'incipit che ha fatto nascere questa associazione? Coraggiosa anche perché stiamo parlando di periodi abbastanza controversi. Sì, la cosa interessante è che l'idea di avviso pubblico è nata in Emilia Romagna, non al sud come molti pensano quando purtroppo sentono parlare delle mafie. Ed è nata agli inizi degli anni 90 quando c'erano, per ragioni legate come sapete tutti al nostro enorme debito pubblico, si decise che anche le pubbliche amministrazioni dovevano per abattere i costi esternalizzare dei servizi. Nella provincia di Modena ci furono appalti di esternalizzazione dei servizi di pulizie, un sindaco che poi diventerà il primo presidente di avviso pubblico, Massimo Calzolari, il sindaco di San Mignano sul Panaro, su cinque offerte, si incuriosissi in sospetti su tre offerte. Lui era un sindaco che già studiava le mafie per conto suo, si recò in prefettura, la prefettura fece con la procura delle indagini e le parlo del 1993-94, si scoprì che i casalesi, quindi questo gruppo mafioso camorristico che deriva dalla provincia di Caserta, si era già spostato nel centro-nord e la mafia era diventata impresa. Ed era un'impresa che tra l'altro, come sta succedendo adesso, alterava il principio della libera concorrenza, perché facevano dei ribassi talmente alti che sbaragliavano praticamente tutti i concorrenti. Da questo eccesso di ribasso sull'offerta si cominciarono ad alzare le antenne e si disse questo, se la mafia è criminalità organizzata, noi per sconfiggerla e prevenirla dobbiamo essere altrettanto organizzati. Di qui l'idea di creare la rete degli amministratori locali, ai quali viene data informazione, formazione, materiali, documenti e buone pratiche amministrative, che ripeto da 14 enti è arrivata a quasi 500. Ecco, questo serve per attenzionare, allertare chi amministra la cosa pubblica, insomma gli amministratori, anche la politica, quindi varie entità, poi dovrebbero essere anche rivolte associazioni di categoria, gli operatori, gli imprenditori e quant'altro, qualora ci sia di base buona fede, onestà, perché se invece c'è già una collusione, una connivenza o anche una forma quasi omertosa di non voler vedere, sentire certe cose e accettarle anche per paura, le cose diventano più complesse. Sì, assolutamente. Teniamo poi presente che il Veneto è l'unica regione del nord dove abbiamo partorito una mafia cosiddetta nostrana, che è la mafia del Brenta di Felice Maniero e questo è un dato di fatto, nel senso che noi abbiamo anticipato quello che è successo nel Lazio di almeno 30 anni. La seconda cosa è che quando si dice la mafia è arrivata in Veneto a causa dei soggiorni obbligati, si dice una verità che verrà fino a un certo punto. Il tema è che questi personaggi sono stati spostati dalle loro zone d'origine con l'idea che tolti come i pesci nell'acqua, che tolti da un certo ambiente e tagliate certe relazioni, questi potessero essere innocui. In realtà queste persone sono state concentrate molto spesso in zone molto vicine, ma nel nostro territorio hanno trovato qualcuno che anziché denunciarli li ha aiutati e nel corso del tempo le inchieste, quelle che lei anche citava recentemente, l'altro giorno c'è stata una sentenza importante sulla presenza della mafia tra Eraclea e in quel settore lì, dimostrano che cosa? Che i mafiosi ottengono servizi da imprenditori veneti, da liberi professionisti veneti, da persone che operano nel mondo bancario veneto, che certamente sono una minoranza, questo lo voglio sottolineare, però ci sono e quindi è impensabile che la mafia si possa conoscere e battere solo delegando alle forze dell'ordine e alla magistratura questo compito. E' compito di tutti invece stare attenti a quello che succede in una società, quello che succede dentro un mercato, dentro una pubblica amministrazione, dentro un settore industriale, artigianale o commerciale particolare, soprattutto di questi tempi, i tempi del Covid, che è il Covid un grande problema, diciamo così, per le persone oneste e sta pericolosamente trasformandosi in una grande opportunità invece per i sistemi mafiosi e corruttivi. In che termini? Dopo ritorniamo anche al tema del discorso del processo di Eraclea, degli esiti, delle condanne che sono state inferte, ma in che termini il Covid può diventare, o sta diventando, perché lei poi mi diceva che in realtà ci sono già situazioni abbastanza che si stanno concretizzando. Sì, per i nostri telespettatori io li invito ad andare sul sito di Avviso Pubblico, che è molto facile, www.avvisopubblico.it, magari a seguirci sui social network e scriversi la nostra newsletter. Lo dico perché noi con un progetto che si chiama Osservatorio Parlamentare monitoriamo tutti i lavori parlamentari che vengono fatti ogni giorno, dove si parla appunto di lotta alle mafie e alla corruzione. L'altro giorno abbiamo monitorato l'audizione fatta dal comandante generale della Guardia di Finanza, generale Zaffarana, il quale ha fatto presente al Parlamento che nei primi sei mesi dell'anno la Guardia di Finanza ha già individuato circa 2000 operazioni finanziarie sospette, che significa che sono grandi quantità di capitali che vengono inserite nel circuito economico legale per essere riciclate. Tenga presente poi che i percorsi formativi che noi abbiamo attivato in questi mesi con i nostri comuni li abbiamo incentivati molto a tenere presente i passaggi di licenze, di stare molto attenti agli uffici anagrafe, chi chiede di venire ad abitare in certi posti, in certi momenti, magari in periodi pre-elettorali. Abbiamo allertato tutti i SUAP, gli sportelli unici delle attività imprenditoriali perché gli organi investigativi per esempio ci dicono che è incredibile come in piena crisi se andiamo a controllare i dati ad esempio delle Camere di Commercio si scopre che da marzo, aprile e maggio improvvisamente ci sono persone che costituiscono società nei settori dell'edilizia, del turismo, dello smaltimento rifiuti che sono nel settore alberghiero, i settori che soffrendo di liquidità, di mancanza di lavoro invece rischiano di andare in difficoltà. Allora le mafie in questo periodo agiscono come un sistema bancario parallelo in come da una parte prestano denaro a chi è in difficoltà. Aspetti che l'ho persa un attimo, adesso vediamo un attimo la connessione. Allora prestare denaro a chi è in difficoltà, questo è un grossissimo problema quindi devi fare attenzione quando l'azienda è in difficoltà e soprattutto a chi... Non per forza tassi usurai. Ma chi è che presta? Ci sono dei privati che prestano denaro? Perché lei ha detto un sistema quasi di banche parallelo ma è una banca che si finge banca? Cioè come si incappa in questa cosa? No, 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 non si passa per i circuiti bancari legali. Il tema è molto spesso che per esempio a Padova tempo fa si scoprì questa indagine chiamata Aspide che era stata comprata un'agenzia di recupero crediti, una finanziaria e all'interno di questa finanziaria operava un gruppo di camorristi. A questi camorristi prestavano denaro senza diciamo così molte carte, molti controlli a degli imprenditori veneti, trentini, friulani che erano in difficoltà. Chi li portava lì però erano spesso i loro commercialisti. Ecco il dato inquietante da questo punto di vista. Allora il tema è che le mafie in questo momento cercano di apparire come delle benefattrici ma in realtà i mafiosi non sono affatto dei benefattori né dei risolutori di problemi. Sono persone che cercano di impossessarsi di aziende per entrare nei mercati per controllare l'economia perché il passo successivo è entrare nella poli. Quello che viene fuori da Eraclea è anche questo, entro nell'economia e mi sposto successivamente nella politica perché la mafia è ricchezza e potere che si cerca di avere rapidamente ma anche impunemente. Ecco ricerca di potere e ovviamente ricchezze poi conseguenti. Come si muove? Incutendo paura, creando una forma di omertà nella popolazione o anche connivenza, un placet? Perché poi nel comune di Eraclea c'era stata anche una manifestazione contro queste mafie e la popolazione non ha partecipato contrariamente a quanto gli organizzatori stessi si aspettassero, anzi c'è stata una chiusura. Come mai questa reazione? Che poi può essere preso in comune ad esempio o magari altri? Perché la gente non sapeva o non vedono penso e non parlo? Allora, rispondo con duplice registro. Le mafie certamente usano la violenza ma la usano come estrema razio. La prima arma che mettono in campo è la corruzione. C'è sempre qualcuno disposto a vendersi. A volte a vendersi anche per pochissimo, per un viaggio, per una vacanza, per una cena in un ristorante particolare o per qualche manciata di euro che sono proprio degli spiccioli per i mafiosi. Se non funziona la corruzione si passa alla intimidazione. Se non funziona né la corruzione né l'intimidazione allora si passa all'esercizio della violenza. Quello che viene fuori da leggendo le carte del processo di Eraclea era che da anni pezzi di cittadinanza, pezzi anche di amministrazioni locali probabilmente sapevano bene con chi avevano a che fare. E una parte di loro era la maggior parte anche intimorita, spaventata. Qualche giorno fa i giornali parlavano appunto di un parente, di quella persona che è stata condannata che per il solo fatto di aver guardato la ragazza di un avventore di un bar che guarda la ragazza di un suo amico questo minaccia e dice tu devi sapere che io sono questo e se non stai attento io ti sparo in bocca. Così come altre cose che sono state pubblicate di un tenore simile su tutti i quotidiani veneti negli ultimi mesi. Ma c'è una parte di quella società così come l'abbiamo visto anche in Lombardia, in Emilia, in Liguria, quindi non si parla adesso per etichettare i territori per carità. Però bisogna prendere atto anche se è fatica a farlo ma è necessario per risolvere il problema che ci sono pezzi di società anche in Veneto che sono compiacenti e conniventi. Che ai mafiosi per esempio chiedono il servizio di recupero crediti. In un paesino di Verona un signore doveva ricevere 600 euro di affitto di un capannone siccome non riusciva ad averli si è rivolto ad una persona tempo fa condannata per andrangheta. In una via di quel paesino per un po' di tempo gira una macchina sospetta pezzi di cittadinanza di quel paese non vanno dai carabinieri o dai vigili urbani ma vanno dall'andrangheta e gli dicono devi fare qualcosa per aiutarci. Ma nel nostro paese come in uno stato di diritto la sicurezza e di competenza delle forze dell'ordine le uniche legittimate è usare la violenza. Assolutamente. Capisce che è questo l'aspetto culturale e antropologico su cui dobbiamo interrogarci. Però questo è quello che si inescava e si inesca anche in altre parti d'Italia è storicamente avvenuto con il radicarsi del fenomeno mafioso proprio per l'assenza di stato nel sud Italia. Mancava lo stato, è una sovrapposizione di uno stato più efficiente che risolve determinati problemi. Il fatto che qui ci sia la stessa situazione, magari le forze dell'ordine per i bavagli di 3.000 situazioni delle nostre leggi che poi vanificano l'intento e l'opera stessa delle forze dell'ordine non intervengano, non possono intervenire, lo fanno senza efficacia fa capire che è come una mancanza, un'assenza di stato che all'esasperazione porta il privato a dire trovo la via parallela non è per giustificare ma per capire se anche qui si verifica questo fenomeno siamo proprio a cavarlo insomma, non siamo messi male. Allora, lei tenga presente una cosa. Nel 1978 Pio La Torre, che poi verrà assassinato nell'82 l'ideatore di quello che è il 416 bis che è il reato del codice penale che definisce e sanziona che cos'è la mafia e chi ne fa parte, scrisse una relazione di minoranza che due anni fa con la commissione antimafia preseduta da Rosy Bindi è stata riproposta e votata all'unanimità in cui lui scriveva la mafia è una questione di classi dirigenti. Quindi attenzione, la mafia non solo entra in gioco quando, come diceva lei manca lo Stato, ma molto spesso i mafiosi si mettono in mezzo tra lo Stato e la popolazione il loro punto di forza è la mediazione nei nostri territori quello che cementa molto spesso i rapporti tra mafie, pezzi di imprenditoria pezzi di politica e di libere professioni è la voglia di fare soldi di farne tanti, di farli in fretta possibilmente senza pagare nessuna sanzione e il tema, anche qui vorrei come posso dire, perimetrare bene il ragionamento per non cadere in una generalizzazione inopportuna ma il tema dell'evasione fiscale il tema che le ultime inchieste evidenziano che ci sono sempre reati di autoriciclaggio riciclaggio, fatturazioni false eccetera eccetera metti in evidenza proprio che c'è quasi la presenza, ripeto come in altre parti del centro nord Italia questa è la caratteristica di persone che non sono criminali sono esperte, molto esperte nel loro mestiere ma decidono di avvalersi dei mafiosi perché il mafioso è un buon cliente paga, paga magari anche più di quello che il mercato richiede la fattura ma soprattutto si entra in un determinato magari sistema di potere con queste organizzazioni è logico poi che se in un certo territorio queste persone oltre che farsi volere bene a un certo punto hanno bisogno di affermare il loro potere e che cosa fanno? come nell'inchiesta aspide magari prendono una persona di fronte ad altre persone la picchiano di brutto oppure fanno un salto in una terra storica dove sono nate del sud e lo riportano su per dire come dicevano le brigate rosse ne colpisco uno per educarne cento ecco questo è il tema allora nella nostra regione c'è tante diverse persone che non sanno anche nel momento della disperazione nelle mani di chi realmente finiscono ma c'è anche una parte che sa benissimo con chi ha a che fare e che pensa comunque di riuscire a sfangarla sempre ma questo purtroppo la storia ci ha insegnato che non accade ecco io lo voglio dire se qualcuno di questi fosse in ascolto non perché sono un mago ma mi occupo di queste cose da tanti anni se serve i mafiosi ammazzano e ammazzeranno come hanno fatto a Modena come hanno fatto a Reggio Emilia come hanno fatto in Lombardia io mi auguro che non succeda mai ovviamente né in Veneto né da altre parti ma è una realtà possibile questa quindi deve stare attenti ecco siamo un po' in chiusura di questa intervista lei ha detto che voi dite che l'altro problema più grossissimo è negare il fenomeno o sottovalutare il fenomeno che è pericoloso anche a livello culturale sì assolutamente noi diciamo due cose che non bisogna né negare né sottovalutare ma nemmeno esagerare perché se tutto è mafia alla fine niente è mafia allora noi abbiamo da qualche anno questa parte anche un cambiamento interessante nel nostro Veneto per esempio dal 2012 la Regione del Veneto si è dotata della legge 48 che è proprio la legge antimafia e anticorruzione della Regione del Veneto la direzione distrettuale antimafia di Venezia e l'apparato investigativo ha cominciato anche ha adottato come posso dire un cambio di pass sono cambiate persone arrivate con maggiore esperienza derotta alle mafie il ruolo delle prefetture venete solo quella di Verona ne ha emanato 22 interdittive negli ultimi sei anni interdittive è un provvedimento si dice di prevenzione cioè si fa un'indagine su un'impresa e se si hanno di lavorare con la pubblica amministrazione e poi c'è tanto lavoro anche nel mondo delle scuole avviso pubblico l'associazione libera legambiente l'arci ed altri ecco che cosa è importante fare però è importante dare continuità a tutto questo è importante come abbiamo fatto avviso pubblico in Regione Veneto formare gli amministratori locali formare i dirigenti funzionali pubblici spiegare che la mafia non è quella che si vede in televisione nelle fiction ma è una cosa più complessa più sottile è impresa e tante altre cose se impariamo a conoscerla se ne parliamo con o diciamo così con coniezione di causa ecco mi creda che ci sono anche gli elementi per tenere distante questo fenomeno e ridurre la loro portata ai ragazzi se ci sono dei ragazzi che ci ascoltano dico attenzione al traffico di sostanze stupefacenti assolutamente quello è il business più importante di tutti ogni volta che si acquista o che si vende a qualcuno una dose di sostanza stupefacente si rafforza la mafia e si danneggia la vita propria e la vita degli altri coordinatore la ringrazio tantissimo Pierpaolo Romani grazie del suo intervento le auguro buon lavoro come sempre voi ci tenete informati dei passi che vengono compiuti ci aggiornate un po' sulla situazione per tenere sempre sensibilizzate le persone la grazia ancora del suo contributo a voi telespettatori restate con noi andiamo in pubblicità ma c'è un'altra parte della nostra trasmissione tra poco